In Italia si stimano un milione e duecentomila casi di demenza, di cui settecentomila circa solo di malattia di Alzheimer. Numeri costantemente in crescita per via dell'invecchiamento della popolazione italiana. Ecco perché è importante prepararsi ad una gestione efficace di questa patologia neurodegenerativa, come auspicato dal professor Alessandro Padovani nel corso del convegno di due giorni che si è svolto a Napoli, uniti contro l'Alzheimer, organizzato dall'intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l'Alzheimer, che ha promosso la sottoscrizione di un manifesto di legislatura per un impegno comune di contrasto alla malattia. Professor Padovani, quali sono le complessità nel percorso di diagnosi precoce della malattia di Alzheimer? Diciamo che il nostro paese è abbastanza pronto a raccogliere la sfida della diagnosi precoce. Le complessità quali sono? La maggior parte dei pazienti sviluppa un decadimento cognitivo in fase tardiva, ovvero nella terza, dopo i 70-75 anni. In questa fase ci sono troppi fattori che rendono non immediata la diagnosi della malattia di Alzheimer. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che ovviamente i percorsi dovrebbero essere migliorati, ci dovrebbe essere un maggiore collegamento tra il territorio, l'ospedale e i centri di eccellenza, anche in una luce di trattamento. Oggi abbiamo trattamenti che sono in grado di modificare di poco il decorso di malattia, anche se c'è molto da fare sul piano della prevenzione secondaria, ovvero del controllo dei fattori di rischio, che sono diversi. Ma al di là di questo, quello che ovviamente preoccupa un po' è se questo sistema può reggere l'eventuale commercializzazione o disponibilità di farmaci innovativi. Io credo di sì, però c'è sicuramente la necessità di organizzare la filiera dal territorio agli ospedali e ai centri. Credo che sia questo. Cosa mi aspetto io? Io mi aspetto che EMA approvi alcuni di questi farmaci e che questi farmaci comincino ad essere utilizzati in fase precoce nei pazienti che iniziano questo percorso. Alcuni di questi farmaci sono in grado veramente di modificare la storia della malattia. Qual è il senso del trattamento nelle diverse fasi della malattia? Il senso del trattamento sarebbe quello di arrestare la malattia in tutte le fasi. Oppure addirittura c'è chi immagina la possibilità di migliorare il quadro clinico anche in fase avanzate. Io non credo che siamo a quel livello. Io credo che il futuro è quello di intercettare le persone che si ammaleranno, quindi di fare una diagnosi addirittura preclinica prima che la malattia si manifesti e cercare di contrastare i meccanismi che danno origine poi alla fase conclamata della demenza. Quindi una campagna di prevenzione per i fattori di rischio? Sì, da una parte questo e dall'altra parte uno sviluppo di metodiche che individuano il nostro profilo di rischio biologico e la capacità di agire su ciascuno di questi meccanismi. Cosa ci si può attendere da queste nuove terapie innovative che potrebbero arrivare a breve? Ci si attende innanzitutto a un miglioramento del percorso, un miglioramento dell'assistenza e soprattutto la possibilità di agire contrastando l'evoluzione della malattia. Questo io credo che sia l'elemento più importante. Come commentiamo il manifesto sottoscritto oggi? Il manifesto oggi è una lettera di intenti che l'Intergruppo vuole offrire un impegno per i prossimi anni rivolto ai malati e ai loro familiari con la malattia di Alzheimer, ma non solo, è rivolto un po' tutto al mondo delle malattie neurodegenerative.